400 mila euro in contanti a nero e a fondo perduto prima di sottoscrivere il regolare contratto di affitto, una somma extra-contrattuale, una sorta di buona entrata per concedere all'interessato di turno uno dei capannoni del macrolotto 1 tra quelli con la migliore posizione, la migliore visibilità e perciò il miglior ritorno di immagine. Una pratica che nei giorni scorsi ha messo nei guai una coppia di coniugi pratesi a capo di una società immobiliare con numerose proprietà nella zona tra Tavola e Iolo, periferia sud di Prato. I due sono finiti sul registro delle notizie di reato per estorsione e come loro anche due agenti immobiliari che avrebbero avuto a che fare con gli aspiranti inquilini, tutti cinesi, interessati ad aggiudicarsi il miglior fondo commerciale per aprire il loro pronto moda ed esibire ricchezza, potere e prestigio. Marito e moglie sottoposti alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai cinesi che hanno denunciato sono indagati anche per il reato di dichiarazione infedele per aver omesso di indicare i redditi derivanti dalle somme ricevute a titolo di buona entrata. L'ipotesi da molto tempo rincorsa e cioè che per i fondi commerciali situati nelle zone di maggiore interesse del macrolotto 1 i cinesi sborsino fior di soldi prima di firmare il contratto di locazione avrebbe trovato conferma. I coniugi avrebbero fatto parziali ammissioni circa la pratica della buona entrata, più o meno una decina i contratti di affitto preceduti dal versamento dell'unatantum di 400 mila euro. A far partire l'inchiesta è stata la denuncia presentata all'inizio del 2022 dal titolare di un pronto moda a cui era arrivato lo sfratto per aver saldato con ritardo il pagamento di tre mesi di locazione, una mossa vissuta come un'ingiustizia a fronte di quanto pagato prima del contratto e perciò denunciata. Da lì una scia di altri casi analoghi che hanno consentito agli investigatori di muovere le contestazioni sia ai coniugi che agli agenti immobiliari che secondo quanto ricostruito avrebbero fatto da portavoce della proprietà chiedendo 400 mila euro per perfezionare il contratto di affitto. Per la prima denuncia i quattro indagati compariranno davanti al giudice delle udienze preliminari a novembre.